Rilanciare i territori aquilani e terramani colpiti dal sisma con buona musica, teatro e danza. E' questo il senso del Festival Abruzzo dal vivo messo in piedi della Regione Abruzzo con una serie di associazioni culturali regionali. Questa mattina a Palazzo dell'emiciclo si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione degli eventi del progetto Genius Loci che si terrà dal 1 al 20 luglio in diversi comuni aquilani e del terramano colpiti dal sisma. Ad illustrare il progetto Genitin era il consigliere regionale delegato alla cultura Luciano Monticelli. Un evento importantissimo di cui sta riscuotendo tantissimo successo. Se pensiamo che durante queste settimane anche le piccole comunità, perché questo è il lancio che il MIBACT e la Regione Abruzzo hanno voluto fare, portare i cittadini e i turisti nelle piccole legalità colpite dal sisma. Ci sono stati musicisti importanti che adesso eviterei di dire perché ne sono tantissimi e faccio anche fatica a ricordarle, ma tutte le qualità sono state toccate. Un accordo con i sindaci e soprattutto con la Regione Abruzzo che ha organizzato il tutto. E' un evento molto importante che si chiuderà intorno al 20 luglio. E già stiamo lavorando per il secondo bando che speriamo di portare nel periodo natalizio, capodanno, tra dicembre e gennaio, altri eventi per dare sempre di più voce a quei contesti in cui sono stati colpiti dal terremoto, ma anche dallo spopolamento. Mentre a spiegare il festival dal punto di vista artistico è stato il direttore della manifestazione Federico Fiorenza. Ci siamo preoccupati attraverso il nome Genius Loci di dare memoria di questi luoghi, di questi paesi, alle persone, all'ambiente. Quindi abbiamo costruito il nostro progetto con un riferimento preciso ai paesi, ai borghi, alle persone, alle storie, alle memorie di queste cose. Anche con i grossi artisti che ci sono e anche vincolando tutto il nostro progetto a una promozione dell'immagine di questi luoghi.